Nel nome del Patre, del Vito e dello Spirito Santo. La pace sia più di lui. Alleluia! Grazie. 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 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta al gruppo del tuo Signore Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta al gruppo del tuo Signore Gesù. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta fra le donne e benedetta al gruppo del tuo Signore Gesù. ...i testimoni convinti della risoluzione del Signore. Siete impegnati a costruire stili di vita nei quali la ricerca del vero, del vero e del vero sia determinata dalla speranza della risurrezione. Preghiamo. Grazie. 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 il bombo con la risoluzione di Gesù. 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 Alleluia di Gesù. Alleluia di Gesù. Alleluia di Gesù. Alleluia di Gesù. Gli sponsor ogni anno diventano sempre più numerosi. Questo va bene per noi, va bene per lui. Il bombo con la risoluzione di Gesù. 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 Il bombo con la risoluzione di Gesù.